Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Rodrigo e oggi vi voglio fare una breve guida all'acquisto di un iPhone ovviamente parliamo in questo caso di un iPhone nuovo di iPhone ne abbiamo vari tipi, in questo momento in vendita ufficialmente da Apple abbiamo l'iPhone 7, che si divide in 7 normale e 7 Plus il 6S, 6S e 6S Plus l'SE, ma poi abbiamo anche in vendita il 6 anche se sul sito dell'Apple non viene venduto, ma in alcuni negozi come possono essere rivenditori ufficiali Wind, Vodafone, Team, Media, Walltroni, eccetera, eccetera, eccetera loro li vendono ancora, in particolare vi consiglio che cosa? vi consiglio ovviamente di andare a provarli prima di tutto, dare un'occhiata e vedere come vi stanno in mano perché ovviamente di cosa parliamo? questi qua sono i modelli che troviamo in vendita e che sono ancora prodotti ufficialmente da Apple una cosa invece che anche vi consiglio ovviamente facendo un bel recap su tutti i modelli che abbiamo a disposizione sono le grandezze perché ovviamente uno può comprarlo usato, rigenerato e ci sono varie grandezze c'è la grandezza del 4 pollici la grandezza del 3,5 pollici del 4,7 pollici del 5,5 pollici e poi vedremo poi con l'iPhone 8 ovviamente le grandezze cosa vi consiglio? prima di tutto di andare a provarlo questa qua è una grandezza di un iPhone 5C quindi 5 pollici e questo qua è la stessa grandezza dell'S e del 5S questa qua è una grandezza media per chi vuole avere un telefono potente diciamo come l'S e il 5S il 5C ormai non ve lo consiglio più perché non è aggiornato ve lo consiglio alle persone che vogliono avere un telefono pratico che sta in tasca, bene che si usa velocemente con una sola mano diciamo che è anche della potenza pura e ovviamente parlo dell'S e disponibili in questi colori qua come si può vedere grigio siderale grigio, normale, argento oro e oro rosa il 5S è disponibile soltanto nei primi tre colori non l'oro rosa e questo diciamo è l'S e poi abbiamo la misura del 3,5 pollici questo qua è la cover di un iPhone 4S in questo momento non ce l'ho qua ai dispositivi ce l'ho messi via comunque sia il 4S lo consiglio diciamo a pochissime persone perché ormai è diventato un dispositivo obsoleto 4S e 4 ovviamente il 3G e il 3GS non lo consiglio più a nessuno per l'ho consultato ai collezionisti 4 e 4S ormai sono dispositivi obsoleti che consiglio solo a chi proprio ha poco da spendere e chi vuole non ha grandi esigenze da uno smartphone la misura invece del 6S del 7 e del 6 è questa quindi 4,7 pollici questo qua è un iPhone 6 appunto e vedete che in mano diciamo non sta propriamente comodo però neanche è grandissimo come il 6 Plus 6S Plus il 7 Plus questa grandezza è diciamo quella media quella che per esempio io ho prescelto perché è molto comodo cioè si arriva da una si arriva praticamente quasi ovunque con una mano vedete comunque se non si arriva io ho anche le mani piccole basta fare un doppio tocco e si arriva tranquillamente tutte le app questa qua è una grandezza c'è un perfetta a chi lo consiglio questo qua lo consiglio praticamente a tutti perché è un telefono comunque portabile un performante dipende ovviamente dal modello ovviamente il 6 è meno performante il 6S un po' di più del 6 e il 7 è il top delle prestazioni per ora ve lo consiglio praticamente a tutti il 7 Plus il 6S Plus e il 6 Plus sono i dispositivi molto molto più grandi qua non ho nessuna cover né niente per testimoniare un iPhone 6 6S Plus 7 Plus sono davvero grandi sono scomodi da tenere in tasca anche da usare con una mano c'è anche sempre questa stessa funzione qua come si chiama del reachability questa qua che vi abbassa ma comunque su uno schermo grande non si può far più di tanto e in più però gli iPhone 7 hanno la possibilità di essere in product red un colore molto bello che vi consiglio se non sapete che colore scegliere perché dalle immagini sembra molto acceso ma in realtà è un colore molto molto bello andatelo a provare e inoltre dato che è prodotto apposta per red i soldi una parte dei soldi del guadagno che dovrà fare Apple vengono donati in beneficenza vi consiglio questo colore appunto uno perché è bello e due perché fate della beneficenza quindi la lotta contro l'AIDS vedete sono questi qua ovviamente con tutti gli altri colori in più c'è il jet black che però vi consiglio se dovete mettere subito una cover se usate senza cover senza pellicola non ve lo consiglio perché si graffia velocemente il nero opaco molto molto bello anche e e questi sono i colori appunto che sono disponibili sono sempre gli stessi col 6 però non c'è l'oro rosa che sarebbe questo c'è solo su col 6s col 6 ci sono sempre i primi 3 come sul 5s questa è un po' la guida agli acquisto dell'iPhone alla prossima a vederci a vederci a vederci a vederci